Ideona Fiamo finta che non ci siamo mai sposati e sti ultimi sette anni sono stati solo un sogno da cui ci svegliamo e ritorniamo ognuno a casa dalla madre No Guarda che non era male come idea Dicevo, perché non cambiamo casa? Ma è la stessa cosa, scusa, aiutano la mia madre, tu torni da Archibri e è come se cambiassimo casa La smetti? Oh, poi non mi dica che non propongo mai niente, eh La vogliamo iniziare a cercare Ma tu lo sai quanto costa una casa? Ma dai la vediamo così, per farci un'idea Dai, vediamone qualcuna Questa che dici? Eh, amo tre piani, io voglio un piano solo Eh, ma vuoi mettere se caschi d'arte su piano, che botto, che fai? Vorrei come tu ci vuoi attivare Questa? No, io voglio l'open space Open space? E qua c'è una sala di pranzo che se caschi ti incastri, mo vuole l'open space Ho detto open space Questa? Ma non c'è balconi Ma che dobbiamo fare con le giuliette? Eh, amo uno spazietto esterno serve Vabbè, questa? Eh, ma non c'è la cabina armadio Ma tanto io c'ho tre magliette e due pantaloni, mi basta un comodino Ammo, la cabina armadio ce l'hanno tutti oggi, eppure è più importante della cucina E poi ci mangiame le camicie, questa? Sì, quarto piano senza ascensore, a 80 anni come facciamo? Ma perché? A 80 anni stiamo ancora insieme Finché morte non ci separi? Scommetto che sarà la mia di morte Oh, quella è carina 270.000 euro 270.000 euro in baggi li danno manco se ci andiamo col passamontagna Oppure quella dalla planimetria non è male? Eh, te credi? Lo scheletro la compramo oggi e la finimo tra 30 anni Eh, ma così te la fai da solo però Ecco, ma faccio, che leggo, che faccio il costruttore io Mamma mia, non si fa niente comunque, tutti gli uomini fanno bricolace, lui no, lui come Hoppy gioca No, ma poi Hoppy mi metto a catturini di palazzo Ma che ci vuole? Niente, quelle sono le basi, alle elementari fai italiano, matematica, architettura Vabbè, vedi come te lo dico, ma io voglio comprare a casa, eh Perché se no compriamo quella sotto a mia madre Provate Fa vedere? Monolocale con bagno, angolo cottura, posto auto, vicino alla metro, ristrutturato da poco Ma poi è un monolocale per una persona E appunto, solo per me, basta e avanti Apri, te lo do io un monolocale, apri Ma poi mi vuoi venire a trovare quando ti pare?